Ho grande stima per Renzi perché è giovane e perché purtroppo in questo paese non si può che essere democristiani. Queste sono le sue radici e credo che lui interpreterà al meglio quello che gli italiani si aspettano da un uomo politico. Se non trova un intoppo nei prossimi tre mesi ce lo ritroviamo per i prossimi vent'anni. Lo ha detto il presidente del Napoli Calcio e produttore cinematografico con la Fil Mauro Aurelio De Laurentiis commentando l'incarico di formare il governo conferito ieri al segretario del PD. Non so se questo sarà un bene per l'Italia, ha aggiunto, perché si dovrebbe cambiare tutto. Siamo un paese troppo diviso tra nord, centro e sud ad esempio e questa è una ricchezza che nessuno ha saputo mettere a profitto. Sul suo rapporto personale con il primo ministro incaricato De Laurentiis ha detto, conosco bene Renzi sin da quando ho girato il remake di Amici miei a Firenze e lui è stato molto cortese e collaborativo. Ho anche delle sale cinematografiche a Firenze, abbiamo pensato in passato a dei progetti per un percorso turistico o anche di gerare un film pubblicitario per il turismo nella città.